Jennifer Lopez e Ben Affleck finiscono nella bufera, la gaff con Serena Rossi al Festival di Venezia non passa inosservata, ecco cosa è successo. Anche Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono recati a Venezia per prendere parte al Festival del Cinema. I due sono apparsi più complici e innamorati che mai, hanno però fatto una gaff con Serena Rossi che non è passata inosservata. Cosa è successo? La nota attrice e conduttrice è la madrina del noto ed importante evento. Quando si è avvicinata alla Lopez non ha ricevuto particolari attenzioni da parte sua. Nel video postato su Instagram da Very Inutil People si vede che le due si stringono la mano, si sono però scambiate solo pochissime parole. Subito dopo si è avvicinato il fidanzato e i due si sono scambiati un bacio, comportamento che ha messo non poco in imbarazzo la Rossi. Nel video si sente infatti Serena Rossi mentre dice che i due si amano e lei si allontana perché si vergogna. È lei coppia in più occasioni si è concessa momenti di dolcezza e passione, anche sul red carpe. Jennifer Lopez e Ben Affleck non perdevano infatti occasione per abbracciarsi e scambiarsi romantici baci. Sul web è presto scoppiata la polemica. Tante sono state infatti le critiche nei confronti di Jennifer Lopez e Ben Affleck per via del loro atteggiamento. C'è chi ha scritto che la Lopez avrebbe dovuto prestare un po' di attenzione a Serena Rossi dal momento che è la madrina dell'evento. Ha poi aggiunto che è stato sgradevole il fatto che l'abbia squadrata dalla testa ai piedi. Grazie a tutti. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.